Ciao ragazzi e buonvenuti in questo nuovo video dove usciremo con questi signori qui Foi JOKER Prima uscita per JOKER No vabbè tu sei già uscito in moto, qualcosa hai fatto? Quindi ho pensato bene di portarli al terminillo So per certo che la strada è pulita Un paio di curvette ci sono Su c'è la neve e offro un panorama e grandi emozioni Perché no? Accendiamo Guarda guarda che belli A lui piacciono le moto anche per merito mio e per via dei miei video Lui uguale, l'ho fatto infognare con le moto grazie ai miei video Quindi possiamo dire che sono due mie creazioni Questo mi dà un po' come dei miei figli, capito? Mi mette un po' d'ansia questo Che belli che sono, tutti preoccupati Tutti no vabbè ma non favo strade Vai piano mi raccomando Mi ricorda un po' la preoccupazione che ho vissuto io le prime volte in moto Quindi spero che ti rimanga un bel ricordo di questa giornata Fatta un pochino di strada, sono ancora dietro di me, non mi sono perso nessuno Sono un bravo leader del gruppo Livello freddo come stai? Facciamogli fare una piccola pausa Caffè, pipì, popò E così chiediamo anche come stanno a livello di freddo E che cazzo dimmelo Com'è andata il primo pezzo? Per il momento una bomba Non è quel pezzo del merda che ti ha fatto in versione davanti Tacci su Ok per il momento Beh per il momento è tranquilla Ti guardi un po' il panorama A me invece porca puttana il sacolo col BMW mi ha sparato una breccola Io prendo il caffè Tacci vostra, io me lo prendo perché ho voglia Però mi cagherò addosso sicuro in montagna Buono, buono Perché se ti caghi addosso è il segreto per andare veloce in moto Certo che stiamo a vedere tutto vestito KTM su... Se lo chiamavano A me ci sono i compagni due Uno gli amavano Bene risaliamo in sello Adesso c'è qualche pezzettino molto divertente Molto bellino Dove io ho detto non vi preoccupate La strada è tutta dritta E non c'è possibilità di perdita di alcun membro del gruppo Oh mannaggia a te mamma Mi ha messo ultimo in testa Adesso tutto il tempo starò a fare Ok io mi diverto un po' Ok io mi diverto un po' Osh, buca, buca Osh, buca Che ha detto? Che hai detto? Ah Hai flexato Si, ho flexato Stavo a bear Dancing quella patente ma tu cos'è la patente scusa guardi i soldi ricco poi c'è un scialato vabbè mi hanno fatto venire l'ansia ha fatto benzina pure io la crue è compatta ok siamo arrivati signori alle alle porte del terminillo come potete vedere dalla telecamera che inquadra dietro così almeno vediamo anche il buon giocherone il buon foissone allora guardate che bello qui c'è il sole che ci riscalda facciamo qualche curvetta insieme e poi dopo andiamo avanti noi procediamo e ci divertiamo al nostro passo così li lasciamo stare non gli mettiamo l'ansia no perché a volte anche stare davanti magari loro si sentono in dovere di stare al mio passo bagnato bagnato attenzione bagnato eh e c'ho l'ansia raga c'ho l'ansia come se fossero i miei figli bene bene fa tutto scuola guidare sul bagnato in mezzo alle curve oh che è sta nuvola nera guardata qua sopra che sei sceo no eh cioè ti prende l'acqua qui è finita caput specialmente una scalata goduria mamma mia lo smocciolo è del freddo 7 gradi mamma mia oggi non è proprio la giornata migliore per imparare a uscire fuori dalla moto raga però adesso sto contento che si stanno a divertire un minutino per fargli vedere questo spettacolo di vista a questo punto per farvela vedere anche a voi magari becchiamo qualche magari no penso che tutto intorno le montagne siano innevate e poi scendiamo guarda al sale per terra però voglio devo dire assolutamente le da una bella sciacquata le moto quando tornare a casa si vede uno youtuber cade quando un gioco e si siede nooo che ha fatto? che è successo? ok eh vabbè amen se tutte le cadute fossero così cioè la carena ti ti pongo del culo perché dice quella livrea bla 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 ma cambi la carena di sinistra l'hai fatto è soltanto quella lì però lo tengo per esperienza mangiamo una cosa al volo qua sotto un panino quello che è poi andiamo giù perché scendiamo adeguata perché qui dopo pranzo fa freddo della madonna lo cambio? ma che è? no no sto a posto così grazie vieni vicino a me se dico una stronzata mi fermi le mie impressioni sulla moto le diciamo giù ma non fa quello fa freddo ma infatti non ho capito perché in questo momento tu debba dare le impressioni alla moto cioè mannaggia la miseria tutta esperienza tutta esperienza purtroppo ecco questo qua quando uno dice le cose devono accadere no? è realmente così perché tu non ci pensi quando tu ti fai la moto non ti è mai capitato una cosa del genere non pensi magari stai a guardare il panorama e non pensi a dove metti il piede dove appoggi il piede sicuramente lui dalla prossima volta che cosa farà? prima si accerterà di mettere giù il cavalletto di stare sul piano che tutto sia a posto e perfetto e poi dopo magari penserà ad altro sembra una cavolata ma buono che gli sia successo così perché stava praticamente fermo perché è caduta sulla terra quindi la leva si è infilata nella terra e non si è spezzato non ha trovato duro e anche lui non si è fatto male ora li porto al calduccio e ci mangiamo un paninetto mentre riguardiamo le clip della caduta perché non pensavo anch'io di avere la clip la telecamera ancora accesa e quindi l'ho ripreso in pieno credo cioè Simone che sta tipo mezzo impanicato perché dice aspetta però non so magari si è storto qualche cosa che c'è qualcosa che non quadra vabbè ci facciamo un girettino qua del piazzale sentiamo almeno se è dritta mi sembra è proprio questo non ci penso proprio mi sembra tutto a posto qui un po' disallineato è ma poca roba cioè qua poco poco disallineato è allora mi sembra tutto a posto non è storta non c'è la ruota da una parte e i manubri e i semi manubri chi è? gnocchetto gnocchetto e tortello e tortello comunque si è andato un dibattito sulle tette io porto sempre moto però ti stai lamentando dicendo che cioè hai visto una che diceva e ho detto aveva troppe tette secondo me è abbondante ho capito sta frase ho capito sta frase ho capito concordo con lui però sai perché? lo dico io Antonio questo non metterlo ragico per dio si è normale respirate meno in apnea se fai in apnea ripartiamo e torniamo un po' più al calduccio sfrutterò adesso il medico giocherone e il medico foissone perché? perché di strada ritornando c'è il mio grafico c'è Giulio Design che si terrà la moto per queste vacanze natalizie e mi farà un bellissimo regalo mi svilupperà e creerà la grafica quindi i colori assolutamente devono essere quelli vediamo però come incastrarli e siccome è di strada ho detto ma perché no? perché non fermarci al volo? adesso e poi torno con qualcuno dei due che poi io spero che qualcuno mi faccia guidare che non vado dietro perché mi pia l'ansia cercherò di incastrare magari foiss ecco sì l'MT che è più comodina io guido lui lo piazzo dietro che tanto già mi ha detto ma sai che non sono mai stato dietro ecco bravo ti faccio sentire questa sensazione questo bellissimo feeling e così mi sono fatto l'uscitina mi sono divertito e voilà lascio anche la moto per fare le grafiche pronte per il nuovo anno ecco due che botta che ha dato arrivati qui da Giulio Design dal mio grafico guarda gliela pioppo subito dentro bello bello la moto l'ho portata a Giulio il problema è che ha detto sai vabbè tanto alla fine Giovanni mi dirava vabbè dai guida te e quindi era abbastanza confidente invece mi ha detto no guido io e qui e qui cambia tutto ed è qui che cambia tutto porca troia raga si si parla un po' come pare di solito pensavo fosse più discesa ma regga sei pronto? no ma dove reggo a me me frega un cazzo ma regga a te poi c'ho la copro davanti e lei mannaggia corona oh ma no ma la scomodità oh mamma mia che sa matto io che non vado manco dietro a mio padre sull'SH300 ma io non lo so ecco all'aca infodale il mio infodale il mio ecco lì il brecciolino ecco il brecciolino eccolo la rotonda eccolo qui sempre dritto occhio che questo è controvato dai che alla fine si sta bene dietro al jumper è perfetto è perfetto regga qui se scherzo si gioca in serite ma io mi sto veramente a cacazzo sotto ma io non sto non sto mettendo la freccia ma non c'ho cioè non proprio non sa mettere la freccia ma come si fa ma come faccio io ho incontrato un mio fan dice oh ciao spavaldo come va male come va che va e noi sto dietro le voce oddio oddio oh quanta spavalderia su li frenano eh tutti frenano tutti frenano eh oh tu oh oh tutti frenano oh oh ma tutti frenano eh guarda qui quanta polizia eh questo è per te eh ciao oddio rega miraggio è diventata sera probabilmente da si vedrà più un piffero però siamo riusciti ecco ancora ok pensavo di tirare sotto la signora incredibile sano e salvo è vivo porco due cioè su stamolo non si è posta dietro eh lui ragazzuali direi che ormai il video è terminato ecco subito Dario che va a controllare i danni a adesso son meglio son molto meglio devo dire a parte quelle due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici che non andavano bene tutto a posto ragazzuoli è stato un piacere grazie mille di aver visto questo video grazie mille a Fois grazie mille a Joker lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e attivate la campanita così almeno ci vediamo al prossimo video ciao